Domenica 1 ottobre, Santa Teresa di Gesù Bambino. È il 274esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 91 al termine. Il sole sorge alle 7 e 8 minuti, tramonta alle 18 e 52. La luna si leva alle 19 e 54, tramonta alle 9 e 31. Si pubblica a Venezia il primo numero della frusta letteraria, diretta da Giuseppe Baretti, che si firma con il significativo pseudonimo di Aristarcos Cannavue. La battagliera rivista segna una tappa fondamentale nella storia della critica letteraria. Le previsioni per domani? Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per sottili nubi alte di passaggio al mattino, probabili locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondo valle al primo mattino. Precipitazioni assenti, temperature minime senza notevoli variazioni o localmente in diminuzione sulla costa. Massime stazionari in pianura in aumento sulle zone montane.